ciao ragazzi bentornati sul mio canale e da un po che non metto un video completo mi sono limitato soltanto a caricare degli shorts però credo che questa cattura meriti un video esclusivamente dedicato a lei cattura un po insolita visto il periodo non me l'aspettavo buona visione sono in acqua da circa mezz'ora decido di fare un aspetto in questo punto dove sulla mia sinistra c'è una roccia che crea una zona d'ombra sono rivolto verso terra i secondi passano e non vedo nulla di interessante a parte le solite occhiate e i soliti piccoli sarai e stavo quasi per perdere l'esperienza pensavo fosse l'ennesimo tuffo finito senza cattura quando all'improvviso alla mia destra compare questa splendida spigola quando è comparsa l'ho sottostimata pensavo fosse una spigola di un paio di chili ma poi, soprattutto venendola sul fondo ho capito che era un grosso semplare mi sono reso conto subito di averla sparata male era sparata abbastanza alta infatti decido di doppiarla riuscendo a ricaricare il fucile e sparando alla testa in modo tale da assicurarmi una salda presa ed ecco qui la bestiola se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e attivate le notifiche grazie alla prossima